Nel menu nuovo andiamo a creare un nuovo POS e per prima cosa nei dati generali andiamo a creare un'impresa, quindi nuova impresa affidataria. Ok, nell'impresa troviamo i dati generali, la qualificazione e eventuali soggetti, vediamo che già sono preimpostati, all'interno dell'impresa andiamo ad importare una mansione da archivio, come vediamo è suddiviso per costruzioni, c'è anche una ricerca in alto, andiamo ad esempio ad importare il verniciatore, come vediamo a destra c'è tutta la descrizione con i vari compiti e fatto questo andiamo ad importare la fase lavorativa, quindi tasto destro, importa da archivio, anche qui troviamo una ricerca e andiamo a cercare verniciatura di opere in ferro, doppio clic per importarla, come vediamo nella fase c'è la descrizione, i vari fattori di rischio con le sostanze, queste sono quelle che poi verranno importate nel rischio chimico e poi una preventivazione dei rischi dove troviamo la valutazione, se il rischio è trasmissibile e la probabilità. Ok, il rischio chimico lo troviamo tra i rischi misurabili, quindi clicchiamo con il tasto destro, selezioniamo chimico, andiamo ad indicare il nome, ok, all'interno troviamo appunto la descrizione, la manzione, fase lavorativa, valutazione, quindi tutte sezioni che serviranno per compilare il rischio. Se seleziono la cartella rischio chimico, vediamo che il software ha già creato un'anteprima stampabile dove troviamo il metodo MovaRisk con tutti i dettagli e la tabella della normativa del decreto 81. Per fare la valutazione, come dicevo prima, basta andare su mansioni e fasi lavorative, andiamo ad importare la mansione verniciatore che avevo selezionato in precedenza, infatti vediamo che viene automaticamente filtrata dal programma, come lo stesso per la fase lavorativa. Importa verniciatura di opere in ferro, ok. Fatto questo abbiamo la valutazione e qua troviamo le varie metodologie di calcolo, quindi metodo MovaRisk, Alpirisk, la normativa del 97 VLE e quella del 2019. Andiamo ad analizzare il primo metodo di calcolo, sotto troviamo un elenco dove posso importare la sostanza o il preparato, quindi vado ad importare la sostanza e come vediamo il programma mi propone quelle associate alla mansione di verniciatore. Doppio clic per importarle, ok. Fatto questo vediamo appunto lo stato non definito, quindi vado ad analizzare le tre sostanze, quindi doppio clic, appare questa finestra dove troviamo il nome, devo indicare lo stato, quindi se è un gas, liquido, solido o polvere, e sotto gli organi bersaglio, ad esempio mettiamo l'apparato respiratorio, gli occhi e annesi oculari, la cute, ok. Poi troviamo la classificazione secondo regolamento del 2008 e qui troviamo le indicazioni di pericolo e le categorie di pericolo. Vado a cliccare su Importa, si apre un archivio con delle frasi di rischio già preimpostate e selezionandole troviamo a destra la descrizione. Andiamo a prendere questo ad esempio e provoca irritazione oculare, quindi sempre doppio clic e verrà importato nella schermata sotto. Poi troviamo la categoria di pericolo, anche queste sono suddivise per sezioni e troviamo ad esempio questa irritazione cutanea, quindi hanno tutte delle sigle in base alla tipologia di pericolo. Ecco, mettiamo questa, ok. Fatto questo vado a confermare e vediamo che per questa sostanza è già stato verificato appunto lo stato, quindi lo stesso vado a fare con le altre due. Mettiamo in questo caso polvere fini o bassa densità, anche qui mettiamo apparato respiratorio, occhi, annesse e oculari, andiamo ad importare l'indicazione di pericolo. Mettiamo ad esempio questo e poi la categoria di pericolo, mettiamo ad esempio, ecco, lesione oculare, irritazione oculare, confermo. Nel caso la sostanza voglio lasciarla qui in elenco ma non voglio analizzarla. Andando su metodo MovaRisk posso ignorare qua la terza sostanza e quindi vediamo che non mi fa indicare nessun altro dato, mentre per gli altri due vado ad indicare appunto la quantità in uso, poi la tipologia di uso, ad esempio sistema chiuso, la tipologia di controllo, manipolazione diretta, il tempo di esposizione, la distanza d'uso e l'esposizione cutanea appunto. Lo stesso faccio per l'altro, per l'altra sostanza. Tipologia di uso, controllo, tempo di esposizione, la distanza e l'esposizione cutanea. Andando poi sull'analisi del rischio e l'identificazione delle misure, troviamo appunto un elenco di misure da poter attuare. Come vediamo già il rischio risulta accettabile con la valutazione che ho fatto in precedenza e quindi posso comunque anche presentarlo così. Se vorrei migliorarlo ulteriormente, posso appunto spuntare quale le varie misure. Come vediamo vengono attivate nella parte alta, ad esempio la formazione informazione addestramento, che contiene la formazione specifica, addestramento e quella generale. inoltre posso anche aggiungere i dpi, i dispositivi di protezione. Come vediamo è migliorato ulteriormente. Quindi quello che vado a cambiare qua mi andrà a modificare il valore finale. Nei dpi ad esempio vediamo i guanti, facciale con valvola filtrante, eccetera. Quindi, oltre alla valutazione che ho fatto prima, posso ulteriormente migliorarla con queste misure. Ora vi faccio vedere una stampa, tipo dettaglio fattori di rischio. Questa è la stampa del post con la copertina. Le stampe possono essere esportate in Word, sono totalmente modificabili o PDF. C'è un sommario dove troviamo i dati generali, eccetera. e andiamo direttamente nella parte quella che abbiamo inserito, quella del rischio. Ecco, come vediamo, qui viene indicata la fase lavorativa, appunto con i rischi individuati della fase. Quindi tutto quello che abbiamo visto in precedenza, le varie prescrizioni del rischio in basso, le opere provvisionali, le attrezzature, e qui appunto la parte che abbiamo analizzato. Quindi le sostanze preparate e pericolose, la pittura, la polvere di zinco e la resina. Come vediamo, anche la resina è stata indicata in stampa, però ho fatto ignora per la verifica. Quindi comunque viene stampata. E più avanti la valutazione del rischio chimico, quindi il metodo muova rischio, è quello che abbiamo visto come anteprima, prima di valutare il rischio, e nella parte bassa appunto tutta la valutazione. Quindi le sostanze, l'indice di rischio, il rischio cuto e cumulativo, e la classe di rischio. E poi la valutazione appunto del rischio che abbiamo fatto con il coefficiente K-TOT, e poi se il rischio è accettabile oppure no. In basso troviamo le misure attuate, quindi tutti i riferimenti normativi vengono poi indicati, allegati alla valutazione. Infine misure preventive, eccetera. Quindi questa è la parte pratica relativa al rischio chimico con il nostro software sicurezza cantieri.